Una festa della Repubblica particolarmente simbolica, quella appena trascorsa a Marina di Geosa Ionica, dopo oltre un ventennio e in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione, infatti, la sala del Consiglio Comunale è tornata presso il Palazzo Municipale. Questa è infatti la decisione assunta dall'Aggiunta Municipale, guidata dal Sindaco Domenico Vestito, di intesa con la Presidente del Consiglio. Il Civico Consesso, quindi, si riunirà nuovamente nello stesso luogo in cui hanno sede tutti gli altri organi e uffici. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della sala sono stati eseguiti grazie ad un finanziamento ottenuto dall'Amministrazione Femia. Sono seguiti poi interventi di rinnovamento dell'intero Palazzo Municipale, con un mutuo acceso dalla Commissione straordinaria e successive opere poste in essere dall'Amministrazione Vestito. La nuova sede del Civico Consesso è stata intitolata alla Costituzione. Con questa decisione, ha riferito il Sindaco Vestito, abbiamo voluto indicare la Carta Costituzionale, della quale ricorre quest'anno il settantesimo anniversario della sua provazione, come punto di riferimento verso cui orientare visioni, prospettive e politiche per il governo della città. Nello spirito dei costituenti il Comune veniva visto come lente intangibile, perché è proprio quello in cui si accentrano tutti i bisogni primari delle comunità. È affascinante penetrare le motivazioni che spizzeranno i partiti costituenti ad esaltare le economie locali. Le celebrazioni hanno visto come momento cardine Alexio Magistralis sul tema la Costituzione, buona e impegnativa tenuta dal Presidente Merito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, in una sala gremitissima. Numerosa infatti la partecipazione di personalità della politica locale, dell'associazionismo e della cittadinanza stessa.